Elodie che infiamma nei panni di una donna pizzicata il pubblico degli oltre 100.000 spettatori arrivati da tutta Europa fino al tacco d'Italia per la notte della Tarama. Con Elodie abbiamo preso una pizzica, la pizzica di San Vito, l'abbiamo veramente resa contemporanea con il suono, si mette davvero alla prova sul ballo e sul canto, in maniera stupefacente devo dire. E' un crescendo di musica, danza, ritmi ancestrali, la venticinquesima edizione del festival più atteso e partecipato del Salento. A dirigere l'orchestra, il maestro concertatore d'Ardast. Le sonorità internazionali di Stromè. Samuele Bersani in canta con lo struggente Ruscio dell'Umare. L'urlo liberatorio della piazza ritrovata non è mai stato così potente e sentito come quest'anno.